Sviluppo, lavoro e contrasto alla siccità sono stati gli argomenti centrali dell'ultima seduta della giunta regionale. Nel giorno della firma dell'accordo di programma per il rilancio di massa, il presidente Enrico Rossi ha annunciato anche che Itaci intende investire 50 milioni di euro in tre regioni italiane, Campania, Lombardia e Toscana. E di questi, 12 e mezzo saranno destinati allo stabilimento di Pistoia. La giunta regionale, di intesa con il Ministero per lo sviluppo economico, ha quindi deciso di aggiungere un contributo pubblico di 8 milioni alla realizzazione del progetto come quota parte del fondo di coesione. La previsione possibile è che si creino delle piattaforme di sviluppo per i tram, cosa che quindi è una novità non banale, cercheremo di capirla meglio anche nel prossimo futuro, e che la previsione di 400 lavoratori, unità di lavoro in più che questo progetto complessivo produrrà su tutte e tre le regioni, abbia una quota parte della regione toscana significativa. Per quanto riguarda invece la siccità, la giunta regionale ha messo a punto una proposta di legge per istituire un fondo da 200 milioni di euro presso l'autorità idrica toscana, per finanziare una serie di opere ritenute strategiche. Sono interventi importantissimi come il completamento del distillatore dell'Elba, la dorsale Apo Versigliese, il raddoppio dell'acquedotto del Fiora, il collettamento da Montedoglio alla Valle di Chiana, quindi interventi attesi. Questi 200 milioni verranno ammortizzati in 20 anni sotto la responsabilità di Haiti. Il tutto senza gravare sulle tariffe a carico dei cittadini e andando a finanziare gli interventi che garantiscono soluzioni strutturali e definitive al problema della siccità.